ciao ragazzuoli benvenuti 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 a tutti in un nuovo episodio a spasso nel interregno si adoro sta serie si adoro sta serie perché perché vengono fuori cose strane comunque con me sempre con me e sempre comunque c'è rocco ciao rocco ciao a tutti dai sei pronto sei pronto carichissimo ho dormito 20 minuti questo pomeriggio sono a carico e comunque sì l'altra volta che è ricarico abbiamo sconfitto margit quindi è una buona cosa dai dopo un pochino e ce l'abbiamo fatta abbiamo fatta quindi quindi essere carico porta bene porta bene vai porta benissimo guarda vai subitissimo immagine si parte andiamo avanti subito così parte così evocato e quindi se è partito alla grande via ho preso anche per sbaglio quello aspetta subito la nostra amica aquila nostra amica aquila che mi ha già preso arandellate mi ha anche quasi ucciso fermo la fermo la ti prego fermo la che ci penso io ok io ho tirato con il coso ma mi ha fatto niente mi ha fatto tirato col pugnale sbabbam ok attento che c'è un'altra aspetta e lo so c'è guarda lo prendi già da qua e si la prendo qua no cosa è successo è incastrato no ti sei incastrato ma mi ha fatto tornare indietro come ti hai fatto sei lagato cosa è successo poi ritorno alla schermata iniziale così a caso e infatti ti vedo che sei buggato adesso cose senza senso accadono cosa ho detto all'inizio ne vedrete delle belle ecco questa è la prima che vedete questo proprio perfetto e connessione al servo io ritorno è poi vai vai perché si è incartato così sempre sulla grazia eh si è lo so se vuoi stare un po lì davanti ah si sempre sulla grazia vai va bene dimmi quando ci sei noi la cosa è bella è che noi abbiamo detto ci incontriamo prima così non dobbiamo evocarci non facciamo il video in cui vediamo che ci evochiamo tech subito non è servito a una ceppa vai detto io che ne vedete delle belle ah non posso neanche evocarti ragazzuolo proprio l'online a farsi fottere mi sa io adesso sono a posto sì 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 ok ok ci siamo ci siamo ci siamo siamo perfetto siamo ci siamo così ma ti stai evocando in un altro mondo mi sembra giusto allora abbiamo già fatto intanto ecco probabilmente avrei preso un oggetto ma non lo sapremo mai boh allora andiamo andiamo dritti sì tanto io quel pezzola l'ho poi fatto ok sono andato giù mi sono richiamato la base ho fatto tutto quanto che c'è un'aquila qua che rompe il marone non lo lasciamo qua se hai già preso gli oggetti possa andare giù di qua tranquille dove è qua c'è una scala si 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 ok poi possiamo scendere acqua dritti oppure anche no vieni va andiamo di qua e di qua se non sbaglio c'è anche un oggetto da prendere dico cazzate non mi ricordo più ok ah sì qua c'è un oggetto arrivo non so sarei già preso no non ho preso ok i cucri cucri cortelli da lancio ok non c'è più niente possiamo andar di qua e qua troviamo sai chi è simpaticone di roger ah il nostro amico roger eccolo è proprio lui ciao vende abilità si probabilmente vende magia si vende magia si esatto conferma allora poi io vado a farmi un giro di qua scala o scala ma non è il diritto e infatti non si può salire al tempo andiamo qua fuori facciamo fuori questi questi poveri questi poveri sfigati ok hanno fatto il loro ultimo sonno vai pure vai pure ecco ragazzi quando dice vai 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 pure vai pure io mi cago addosso c'era vabbè guarda qua è dove c'era roger si si vai pure vai pure mamma mia intanto vedo un online lontananza aspetta direi con l'arco direi con l'arco vai e gli fai abbastanza danno bisogna avere paura di questo e quando sono da solo questo qua mi devasta hai visto e in due rossi si fa in fretta a farlo fuori bravo e ti da solo 400 questo eh però ti saccagna come pochi ok perfetto schiniera da esule va bene andiamo qua sopra va su vai james ma si perchè a parte che a me non serve niente da venire qua però se non sbaglio ci sono degli oggetti da prendere qui siamo praticamente sul tetto dove c'era roger ah si si ok ok ma non c'è forse non c'è nulla da prendere sai e poi vedere qua dentro e lì è dove no 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 non c'è niente dove saresti entrato se non scendevi in quel punto là va bene e intanto qua al fondo non so se noti ma credo siano oggetti quelli che ci sono lì si va bene io lascerei perdere adesso come adesso e andiamo oh che bello via e si si andiamo aspetta la croccia è un esule io sono entrato convinto qua ma era meglio se non c'entravo qui eh la cosa non mi piace eeeh no aspetta qua c'è una porta ok ok uccido no no non si può uccidere probabilmente aveva un oggetto no mi sbaglio no no andiamo ecco qua adesso cominciano a farsi un po' seri ok ok se ci si se vedi o metti lasciamila a me per cazzo vado è andato è andato è andato no volevo fare lanciare anch'io il sanguinamento ma ho lanciato in altra parte ah ok allora e con calma si fa tutto qua eh ma si si può andare guarda lì sotto chi c'è ah che bello chi è uuuu il primo boss il nostro amico si ma se li tiro con l'arco eh tiragli con l'arco da qua magari gli fai abbastanza danno fermi con quello non gli fai niente eh si si ma con l'arco vediamo sul becco però beh prendi beh gli fai anche abbastanza danno continuo non c'è più le frecce in fuoca eh ecco lì è bello si ovviamente è sprecata si perché si mette sotto no sprecata di beh beh tu beccalo nel culo no non mi fa più mirare aspetta ok si è allontanato si è allontanato no vabbè andiamo avanti va no no l'altro qua potremmo saltare sotto ma è meglio di no va aspetta dove c'è nato ah va vieni qua qua stai sul tavolo secondo me lo pigli Io mi butto No aspetta aspetta Ponderamico mio Ponderamico mio Aspetta aspetta Spacco tutto e spacco Adesso vedi che cazzo è lì Eccolo eccolo Ma va a cagare Non l'hai preso? No Faccio così Non lo prendo perché è troppo Troppo sotto Niente vabbè dai andiamo avanti Ultima No non lo prendo via Lo terremo per dopo Allora qua cosa c'è? Allora qua Possiamo andare di lì ma poi Un giorno al cavaliere Ma non si può tornare indietro Il cavaliere Qua Cavaliere qua Aspetta 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 Cazzo mi ha fregato Ustia Ma si ma questo va giù Abbastanza easy Vai tranquillo Guarda come la va giù Mi è fottuto Ma è da fottuto? Eh si Io scemo non mi sono curato E' fottuto anche te Mi richiamano Dovrò mettere un attimo in pausa Vai vai Tanto io ti Metti il dito Che dopo ti evo Metto il dito Dove me l'ha messo il dito? Qua Ok Evocchiamo Rocco Allora Dobbiamo fare tutto a capo Ok Via che si va Tanto faccio le aquile Allora Allora Una Aspetta Anche questa Ottimo Ufff Fermi Fermi Aia Ok Andata Andata Vediamo ci va Ok Quanto Rocco è qui E' il cavaliere giù Quelle palle Quello lì Vediamo se riesco L'assaggiamento Carismano Che aumenta l'agitata delle frecce Vediamo Ecco Bella No 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 Adesso Eh ok Scusatemi Stai uccidendo uccelli Io sono ucciso Stavo Vedendo se riesco Con l'arco A buttarli giù Ma Camminano E le frecce vanno dritte Ovviamente Ok Allora Nella zona dove eravamo prima Ti ricordi che Potevamo Aggirare tutto un pezzo Da lì sopra Se non sbaglio E potevamo direttamente Andare lì Però vabbè C'era sicuramente Qualcosina da fare Ma Vabbè Non è che si raccogliesse Chissà che cosa Comunque dai Andiamo Ok Hai già ucciso tutti Perfetto Yes E andiamo E si vola Io direi che Ci buttiamo direttamente Da qua Non mi ricordo Se ci facciamo male Sai Ah no C'è da scendere In questo lanfratto Ah Cagare Vabbè Non importa Ok Perfetto Io direi che Quel cavaliere lì Lo rompiamo Tempo zero Ok Ok vai Tu c'hai sempre Le frecce infuocate Sì Ne ho sette E allora vai Dici a quattro L'altro Preso Però Se sei in mezzo Alla porta Io non riesco a passare Non riesco a fare niente E no 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 Scherzavo Ma cosa vuoi farmi Che sembri un puntaspilli Guarda come sei morto male E tu Ma fai Oh E cagare pure te Corazzo da esule Mi sto quasi prendendo la Spadone e cavaliere Esule Figo E vabbè Tu c'è un culo C'hai Ok Andiamo Nel frattempo Equipaggiamento Cosa da cavaliere esule Fa cagare Perfetto Allora possiamo non metterlo Mi sono fatto la 142 Poi Armatura di quelli di prima Io vado eh Dove sei? Sì arrivo Io vado tranquillo Eccolo qua Ciao amico Non l'ho preso neanche una volta per sbaglio Ho spregato tutti i miei attacchi Fra sto deficiente Non mi ha dato niente Non mi ha dato E avanti a bominio E avevano Facciamo dopo quando scendiamo Dai Allora Ok Sicuramente se andiamo sotto di qua Arriviamo lì Ci sono le mie rune là Posso prendere le mie rune? Eh no 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 Torniamo a prendere le rune Anche perché qua c'è un oggetto figo da prendere Eh cosa facciamo? Vado per l'arco? Vai come vuoi O se vuoi fare da esca Io gli vado dietro Abbiamo visto che ha funzionato prima Oh vacca boia Uh gustia gustia Vai prenditela con Enrico La partita è sua E infatti Oh E' guai Eccoli cosa ci voleva Via Mamma mia Usa sto scudo L'ho usato eh Ehi porca vacca Vai 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 Entra 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 Non entra Non entra 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 Uh no 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 Porca troia Lo sapevo io che entrava Eccolo adesso E' entrato adesso Porca miseria L'ho ucciso Mi ha dato un oggetto Fammi prendere un oggetto No Porca di una miseriaccia Qualcuno Vabbè io ho rimesso Ho rimesso il dito E se corriamo andiamo Piatta di là Può fare Ma anche corre Sì 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 Corriamo come dei codardi Esatto E andiamo fin là Io ci sto anche Così evitiamo di Pressare I nostri spettatori Con le solite cose Ok vai corriamo Vai Via Ah dove è uscito quello? Era quello là Salta Salta perché poi erano Tutti i cosi esplosivi E ci inchiappettano Entra nel booze Vado nel booze Via Facciamo le supposte E voilà Ok Possiamo andare Quindi lasciamo di stare Questo possiamo anche correre Volendo Sì sì Vai a cagare Vai a cagare pure te Ma perché Mi becca a me? Eh non lo so Ti vuole bene Eh sì L'hai fatta? C'è mazza Ti sei preso una schioppettata Sì Cacchio Non dovrebbe arrivare Fin qui Non dovrebbe No lascialo là Lascialo là Lascialo là Allora L'uccidi? Eh non lo so perché Questo camisa di Devo ucciderlo Perché mi dà la sua ascia Invece no Ma ho dato un caglio Ciao Me ne vado Addio Prenditela con lui Non c'entra niente No no Non vieni di qua Sei venuto di qua Mi cassa Oh ma che cazzo Gli hai fatto? Voi avessi scopato la madre Ma cosa vuoi? Ma chi te sei in cula? Oh 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 Dai te lo tengo fermo un attimo Cureti Cureti Macca boia Ma cosa li hai fatto Che è così cattivo? Ma non lo so È proprio incazzato Nero ha incazzato questo Ma devi morir Oh È andato Spero Sì Oh Schinieri da Cavaliere Esule Finalmente Mi ha dato i suoi schinieri Aspettate che gli lancio Una freccia Sto qua Schinieri che fanno paura Attento Che drosti ragazzi Dove cazzo tiro io l'arco? Ma cosa fa? Ma cosa metterla figli con me? Ma non ti ho fatto niente Scappa Scappa To 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 Oh Ci voleva tanto? Eh Sono frecce piantate ovunque Sì Ti dava cazzo Porca miseria Mi ha reso Sì Ok Ci ho dato di Godric Perfetto Nel frattempo Ho trovato un'arma O meglio Mi ha dato un'arma Ottimo È questa Oh Qui c'è uno scrigno Ok Apre lo scrigno Eh Che f***o Gatti Non posso prenderlo Quello Cazzarola Velo mimetico Oh Bello Quello Vai equipaggilo come fosse una pozione E poi vedi cosa succede Equipaggilo subito Mettiti vicino al cammino però Prima di usarlo Qua Ti metti qua Allora inventario Come una pozione Sì no Mettilo vicino alle pozioni Così ce l'hai subito nella croce E poi lo usi E poi lo usi Dov'è dove stanno Ah è vero Eccolo qua Senza rida Ok 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 Va che bello Un'asse di legno Va che bello Un'asse di legno Però Vabbè io eleggo il tuo nome Ma gli altri Se ci invadono Ci mettiamo quello E se la pigliano Che bello Sì Eh sì Allora adesso sì Che ci divertiamo Con quello lì Posso anche spostarmi Ma che figo Sì puoi anche spostarti Però poi Sì sono nel camale Non devi farti vedere Bello Mi piace